Buongiorno ragazze, buongiorno. Allora, che abbiamo oggi a presentare? Che abbiamo oggi a presentare? My Kitty in collaborazione con Eleonora Fanny! Allora, passiamo a farvi vedere un attimino il kit. Allora, vi faccio vedere un kit degli orchini Frenzy in versione Aquamarine. Ta-dam! Allora, vi ricordo che una volta effettuato il pagamento del kit, vi verrà in automatico mandata la mail con lo schema. Quindi ragazze, mi raccomando, inserite la mail giusta, anche per il tracciamento del pacco, vi verrà mandata una mail. Quindi inserite, mi raccomando, inserite la mail giusta. Perché non vorrei poi avere... Ah, tu non mi ha mandato lo schema, tu non mi ha mandato... E... vabbè. Vado le ciance. Giusto per informazioni... Informazioni di... Informazioni di servizio. E... Nola, vediamo cosa contiene questo kit. Scusate, ma c'ho il bimbo a casa. C'ho il bimbo a casa. Wow! Voi miei adorati, Frenchie Chateau da 10 mm. Allora, in colorazione Caribbean Blue Opal. Questi meno tonnelli, da non di essere tirati fuori dalla scatolina. Madonna mia, che belli che sono! E per chi è amante del blu, questo è favoloso. Guardate che belli che sono! Ok. È stata una sfida, anche per la... Per la... Per la... Eleonora. E le ho chiesto di... Di combinarmi qualcosa con... Rivo, le ho sciatomba 10 mm. E lei mi ha accontentata. Abbiamo deciso di farlo un po' sul matto, un po' sul... 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 Non vengono le parole stamattina. Come mai non mi vengono le parole stamattina? Allora, un po' sul matto, un po' sul lucido. Allora, abbiamo deciso di mettere... Le miuchi matto. Matto, matto, duracode, galvanize e silver. In un g0 e in 8.0. Poi abbiamo scelto le duracode, galvanize e silver. Invece normali in... Per far la decorazione. Poi abbiamo scelto le... Le aquamarine. Belli. Belli, belli. Poi abbiamo scelto... Le nacre perle, nacre perle preziosa a 4 mm. Perish and blue. E poi avete un paio di monochelle. E poi abbiamo deciso di metterci anche... Le mini chevron dark... Mad velvet e dark teal. E poi queste introvabili. Cioè, veramente ho dovuto montare il mondo per trovarli. Questi bicono indicolite a be matte. Ma sono pazzeschi, ragazzi. Sono pazzeschi. Questi... Mamma mia, sono pazzeschi. Guardate, sono matte. Matte, 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 matte. E niente, questa è la colorazione acquamarine di... Orecchino Franci di Leonora Fanni. Eccolo qua. Passiamo ora all'orecchino in versione rosa. In versione rosa. Abbiamo cercato di accontentare un po' tutte. Allora, questa versione diciamo che è un po' uscita lì per caso. Allora, ci sono i French Chaton. 10 mm in color rosalina. Qua sembra un crystal, ma non è un crystal proprio. Eccolo qua. Forse così, vedete meglio. Ok. Poi abbiamo deciso di metterle in tre misure di Miyuki Light Bronze. 8, 0, 1, 11 e 15. Poi avete una coppia di Monachiele Anticopper. Avete anche i Bicono Sapphire Abbey. Veramente bellissimi. Bellissimo sto colore. Poi abbiamo le mini gem duo. C'è anche la luster. E poi abbiamo le Nacre Pearl Preciosa. Bellish and Pink. E le Shark Beige Luster. Le mini chevron. Ok. Andiamo alla versione che a me io adoro. Io adoro. Io adoro questa versione. Eccola qua. La versione light green. La versione... Oh, mamma mia, che bella. Io non amo oltre verde, però... Cioè, questo orecchino qua mi piace. Mi piace. Non amo da impazzire. Me ne farò io un paio. Visto che ho lo schema. Allora. French 80, 10 mm. Mint Green Delight. Ma sono uno spettacolo. Sono uno spettacolo. Aspetta, che ti tiro fuori. Sono uno spettacolo. Ups. Guardate. Perché non mette... Ah, eccolo. No. Aspetta. Perché non mette a fuoco? Perché trovo vicino alla media camera. Ah, eccolo qua. Eccoli qua. Ah, ok. Poi abbiamo... Vedete poi nel tutorial che ci sono le Miyuki Galvanize 8.0. Le Miyuki 8.0 Galvanize Draco Champagne. E le Miyuki 8.0 Dal... Eh... Metalli Dark Bronze. In queste due colorazioni abbiamo... Abbiamo... Lei ha scelto di farlo così. All'interno dark... No, aspetta. Non so se è all'interno o all'esterno. Non so. E quindi ho deciso di mettere le due due. Poi abbiamo come... Eh... Un di zero abbiamo Duraco Galvanize Champagne. E come 15.0 abbiamo le Metall Dark Bronze. Eccole qua. Poi abbiamo le Mini Chevron Gold Shine Dark Olive. Poi abbiamo un paio di monachelle. Eh... Le Mini Gem Duo Shark Light Green Luster. Le Perle di vetro 4 mm Light Green. E poi ci sono i Bicono Peridatta B da 4 mm. La preziosa. Ma cosa non sono Citer Kit? Sono bellissimi, sono bellissimi, sono stupendi, sono stupendi. Allora... Poi metto a posto. Facciamo così che vi faccio vedere una... Purtroppo non ho qua i kit, cioè gli orecchini già finiti. Però prometto che ne farò uno. Questo verde. E... Noi ragazzi, sono stupendi. Sono veramente bellissimi. Ringrazio Eleonora per aver accettato la sfida. per aver realizzato questi orecchini per me. E nulla. Cosa vi devo dire? Sotto qua trovate tutti i link. E... Devo dire altro? Non lo so. Andate a prenderli! Ciao! 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 ! Ciao! Grazie.